Un autobus a due piani trasformato in un grande palco per ospitare eventi su otto ruote. Un vero e proprio spettacolo on the road, quello portato in scena dalla compagnia Teatro delle Gru di Matera in occasione della ventunesima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Si chiama Bus Theatre e sino al 10 settembre fare il giro della città dalla periferia al centro storico con il suo teatro di strada per portare l'arte dappertutto. Tra le tappe in calendario anche quella del borgo di Montegrosso alla quale si riferiscono le immagini. Nella parte superiore del mezzo una sala attrezzata con 25 posti a sedere, ma basta aprire la fiancata e il bus diventa un vasto boccascena per offrirsi al pubblico tra spettacoli teatrali, musicali, performance e incontri. Il bus è il punto di approdo anche per artisti del territorio, selezionati attraverso una pubblica open call. 12 gli ospiti tra compagnie e gruppi musicali che si esibiscono per tutta la durata del festival. Il progetto, immaginato nel 2007, fa dell'itineranza culturale la sua prerogativa per portare spettacolo al pubblico senza aspettare che sia il pubblico a raggiungerlo. Un modo per fare della strada un tramite tra artisti e persone, un crocevia dove si realizza l'avventura del viaggio e la straordinarietà dell'incontro. Dopo le tappe di Matera e Montegrosso, il Bus Theatre sarà ancora oggi nel rione di San Valentino per poi spostarsi nei prossimi giorni nei quartieri Santissima Trinità e Santa Maria Vetere. Gli spettacoli sono tutti gratuiti. Grazie. 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 Grazie.